Giornata di lavoro, di approfondimento, giornata per analizzare il nuovo bilancio, la prossima programmazione presentata appunto dal Presidente Juncker e dal Commissario Ottinger. Molta preoccupazione sul futuro dei fondi di coesione, molta preoccupazione per le prerogative delle regioni che sembrano essere lese. I trattati europei fondanti dell'Unione Europea parlano delle regioni come braccio operativo, come sistema di autonomia più vicino al territorio che deve gestire questi fondi per la coesione. Invece vediamo un taglio a questi fondi, vediamo una centralizzazione di queste politiche, vediamo insomma qualcosa che va assolutamente contro rispetto appunto ai trattati firmati qualche anno fa. Noi vogliamo analizzare per bene questa situazione e soprattutto diffondere fra le altre regioni questo allarme e i documenti che trarremo da questi giornati i lavori poi li manderemo in Commissione Europea, li manderemo in Comitato delle Regioni, li manderemo a tutti i parlamentari europei perché ripeto noi vogliamo che le regioni restino protagoniste dell'operatività dei fondi comunitari. Tutti i territori avranno la possibilità di ricevere nuove politiche di investimento da parte dell'Unione Europea e questo ci rallegra maggiormente anche se sarà importante come Regione Veneto definire all'interno delle politiche nazionali quante risorse l'Italia riceverà e come saranno distribuite al proprio interno. L'unica nota negativa sarà capire quanto sarà la percentuale che la Regione Veneto in termini di bilanci regionali dovrà mettere per compensare la diminuzione dei trasferimenti a livello europeo. Sicuramente dobbiamo porre molta attenzione appunto al prossimo settennato perché si parla di riduzione e già questo non è un buon inizio. Logicamente l'Italia dovrà farsi valere in tutti i modi perché è assolutamente importante che queste risorse arrivino nel nostro territorio ma soprattutto che a livello di regioni quello che arriva venga speso il più possibile perché ci sono anche situazioni in cui magari non sono stati spesi tutti i soldi quindi là bisogna lavorare veramente in maniera puntuale e obiettiva su quello che serve fare per i cittadini. C'è qualche buona notizia dal fronte europeo perché questa programmazione che partirà dal 2020 al 2027 ci vede come Italia crescere i fondi assegnati. Questo vuol dire più responsabilità, vuol dire sapere progettare meglio, spendere meglio, individuare degli obiettivi strategici che non possono che essere quelli di uno sviluppo inclusivo e sostenibile anche della nostra regione. Vuol dire anche anticipare la progettazione cioè non arrivare all'ultimo secondo con i documenti e preparare un buon lavoro in consiglio regionale. È un quadro finanziario che deve guardare lontano dopo il 2025 ma che si fonda ancora sui risultati e i lasciti di una profondissima crisi economica che ha colpito i paesi in maniera differenziata e disomogenea. La geografia economica europea è cambiata in questi ultimi anni soprattutto i paesi periferici quindi sia quelli del sud, Spagna, Italia e Grecia ma anche sorprendentemente quelli del nord come la Finlandia e hanno visto le loro economie soffrire moltissimo come esito della crisi mentre i paesi dell'Europa centrale soprattutto la Repubblica cieca, Repubblica slovacca e anche quelli di più nuova adesione come Romania e Bulgaria pur restando paesi ancora al di sotto degli standard di qualità della vita e di prosperità del resto dell'Europa però hanno visto le loro economie crescere e crescere in maniera significativa. Quindi è molto difficile riuscire a trovare il giusto equilibrio in questa situazione e lo sforzo della Commissione è stato esattamente quello di proporre un quadro finanziario pluriennale che tenga conto di tutte le esigenze. Le regioni devono fare anche loro un percorso evolutivo. Da questo punto di vista la creazione di una task force specifica che studia la sussidiarietà cioè guardando a tutta le politiche dell'Unione Europea tutto quello che il trattato disciplina c'è un esame adesso più approfondito e sistematico per capire in che modi e in quali ambiti e come vada suddivisa la responsabilità ai vari livelli per diciamo togliere un po' di confusione e di sovrapposizioni e responsabilizzare meglio ciascuno. Questo vuol dire certamente che le regioni devono pensare che non è solo la politica di coesione quella in cui si esprimono perché quella politica è una politica per le regioni ma non è delle regioni e devono guardare invece ad altri spazi anche che si sono aperti nelle altre regioni per far comprendere per far agire correttamente il livello territoriale. Quindi ci vorrà un dialogo migliore più articolato tra livello dell'Unione Europea, dei governi nazionali soprattutto della dimensione macroeconomica delle politiche di sviluppo e delle regioni che vedono di più la dimensione microeconomica dello sviluppo e quindi è questo innestare meglio la parte micro e la parte macro. Questo sarà l'esercizio difficile, è un campo da esplorare praticamente. Ci sono dei programmi che rischiano di non essere più presenti nella programmazione 2021-2027, si parla dei programmi trasfrontalieri marittimi che più che saltare saranno o è proposto di integrarli nella cooperazione trasnazionale e poi ci saranno alcuni programmi trasnazionali come il programma Central Europe che invece è a rischio di non continuare perché diciamo che vi è uno sforzo da parte della Commissione di ridurre il numero dei programmi e di tararli su quelle che sono poi le esigenze del territorio. Quello che adesso bisognerà fare è dimostrare i territori quali esigenze hanno e con chi hanno bisogno di collaborare, di cooperare. Il programma Central Europe si trova in mezzo, nel cuore dell'Europa, a cavallo di quattro cosiddette macro strategie regionali. Ogni macro strategia regionale, parliamo dell'area alpina, dell'area adriatica, dell'area del Danubio e dell'area del Baltico, dispone di un programma trasnazionale. Il programma Central Europe si trova a unire queste quattro macro strategie e a unire tutti quei legami che si sono stabiliti negli anni e nei secoli vorrei dire fra nord, quindi baltico e sud e quindi adriatico e mediterraneo. Ora, diciamo che il rischio legato al fatto che il programma Central Europe possa non essere più lì è legato proprio al fatto che Central Europe di per sé non ha una catena montuosa, un fiume o un mare che lo caratterizza. Però ha altre funzioni, ha delle funzioni economiche importanti, stiamo parlando del 90% del settore automotive che si trova nell'area Central Europe, 90% europeo, stiamo parlando del 50% dell'export europeo del manufatturiero avanzato che viene da Central Europe, che comporta quindi dei flussi e quindi l'area Central Europe ha una connotazione più funzionale che non fisica. E poi c'è da dire che quest'area è attraversata da delle importanti divisioni che ancora sono lì, dove c'era la cortina di ferro, adesso abbiamo delle regioni che si trovano con veramente grandi e importanti differenze di sviluppo tra una parte e l'altra di questa vecchia suddivisione. E quello che Central Europe fa è proprio quello di unire queste funzioni. Purtroppo in alcuni tavoli il fatto che Central Europe insista su aree servite da altri programmi viene vista come una sovrapposizione. Adesso bisognerà far capire che questo cuore centrale dell'Europa ha bisogno di una piattaforma in cui i paesi dell'est e i paesi dell'ovest possono collaborare e i paesi del sud possono lavorare con i paesi del nord. E questo è solo Central Europe che lo fa in Europa.